Buongiorno e benvenuti a questa nuova edizione della Rassegna Stampa di sabato 7 novembre. Iniziamo quest'oggi dal Corriere delle Alpi che si presenta ai lettori con una sovracopertina dedicata al QAM Medici per l'Africa, un'organizzazione, una ONG padovana che festeggia i 70 anni di vita e per celebrarla oltre alla grande foto in prima pagina viene riportato anche il messaggio rivolto a questa organizzazione dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e poi all'interno prima della copertina vera e propria del giornale altre testimonianze relative a questa organizzazione, quella di una famiglia che ha vissuto un periodo in Africa, in Etiopia per la precisione e dove dice abbiamo imparato a condividere e ascoltare e poi le spiegazioni del responsabile dell'organizzazione che spiega le finalità di questa loro opera, di questa loro iniziativa. L'Africa chiede opportunità non isole felici, Don Carraro la nostra identità è non mettiamo in segno e l'obiettivo è aiutarli a sviluppare il loro sistema sanitario. Questa è un po' l'impegno e la filosofia di questa organizzazione di volontariato molto nota e che opera con grande impegno a favore del continente africano. Ma veniamo alla copertina vera e propria, alla copertina tradizionale, se così vogliamo dire, del Corriere delle Alpi, dedicata in particolare al Covid Belluno, gli ospedali in fase 4. Si tratta di una notizia diffusa nella giornata di ieri dalla Regione Veneto, in particolare da Azienda Zero, che ha fatto il punto un po' sull'andamento dei ricoveri in Regione. La Regione Veneto è nella fase 3, tenendo conto del rapporto tra ricoveri in terapia intensiva e ricoveri in area non critica, mentre Belluno e anche Treviso, queste due province, sono già entrate nella fase 4. Le fasi di rischio, così le definisce Azienda Zero, previste sono 5. Belluno, come detto, insieme a Treviso, è entrato nella fase 4. Fase che, come tutte le altre, richiede un adeguamento dell'organizzazione ospedaliera per far posto ai tanti ammalati che richiedono il ricovero e per organizzare al meglio, secondo le possibilità, le strutture ospedaliere. E infatti, scrive il Corriere delle Alpi, L'Ulss Dolomiti riorganizza i reparti per trovare altri posti letto. Anche la struttura di Euronzo diventa Covid. E ancora, recordi positivi e altri tre decessi, dati preoccupanti nel bellunese. Questo è il titolo messo alla foto di prima pagina, che mostra un'auto incolonnate in attesa di fare il tampone all'ospedale San Martino di Belluno. E all'interno le prime pagine del Corriere delle Alpi sono dedicate proprio al tema della pandemia. Prima con una prospettiva nazionale e regionale, poi anche provinciale. Contagi, mai così tanti morti d'aprile. Quattro regioni rischiano l'arancione. Il premier Conte affontana il presidente della Lombardia. Nessuno schiaffo politico. Il riferimento è al DPCM del 3 novembre, in cui la Lombardia è stata individuata come una delle quattro regioni rosse, di colore rosso, inserite nell'area rossa. Ricordiamo, poi c'è l'area arancione, l'area rossa per la massima gravità, l'area arancione, alto rischio, alta gravità, e poi l'area gialla, in cui per ora è il Veneto, rischio, difficoltà moderate. Preoccupano i dati di Liguria, Veneto, Toscana e Campania. Dagli zoo al catering, ristori per 2 miliardi. Partiti i primi bonifici, decreto bis approvato nella notte dal governo, aiuti a 19 categorie, confesarcenti e accusa, insufficiente. E in questo caso si fa un po' il punto sulle agevolazioni con le quali il governo accompagna le nuove restrizioni per contenere il contagio. E le principali misure di queste agevolazioni vengono riassunte in alcuni titoli dal Corriere delle Alpi, vediamoli insieme, agevolazioni per gli affitti e via la seconda rata IMU, IRPEF, IRAP e soggetti ISA rinviati ad aprile 2021, bando per ufficiali medici e infermieri militari in sanità, congedi retribuiti al 50% e bonus per le babysitter per le famiglie, aiuti ad ambulanti e tatuatori, soldi ai servizi per animali, questi alcuni aiuti per negozi e iperstore, e per la giustizia, PM difensori presenti su richiesta. Queste alcune delle misure previste dal governo per cercare di dare ristoro ai disagi patiti da chi è costretto a chiusure o limitazioni di attività a causa della pandemia. ospedali sotto forte stress, sale l'allerta, ridotte le prestazioni, limiti ai privati. Veneto a rischio 4, Zaya, entriamo nella fase di massima turbulenza, entro la metà di novembre possibili 2000 ricoveri, e il Corriere delle Alpi presenta alcuni grafici che mostrano us per us la situazione dei ricoveri in questo momento, alla giornata di ieri. E come detto, Belluno e Treviso sono ormai nella fase 4 di rischio, mentre la regione nel suo insieme è nella fase 3. E sia a Belluno che a Treviso, a pesare in particolare, non sono i numeri delle terapie intensive, ma i numeri dei ricoveri in area non critica. E infatti, il titolo successivo che segnaliamo del Corriere delle Alpi, Emergenza Recovery Covid del Bellunese, scatta la fase 4 per l'Ulstromiti. L'aumento degli ammalati ha costretto la direzione ad allestire altri posti letto. 21 saranno ricavati anche ad Auronzo. Già 120.000 test molecolari e 25.000 tamponi rapidi. questo in provincia di Belluno. Sono 73 le classi in carico al Dipartimento di Prevenzione della Ulstromiti, mentre 15 sono in isolamento domiciliare. Se ci sono sintomi, chiamiamo il medico di base. Questo è un breve riassunto dell'andamento di ieri, giornata in cui sono stati individuati in provincia di Belluno 201 nuovi soggetti positivi. russo, il livello arancione non è imminente. La manager della prevenzione veneta, quest'anno la circolazione dell'influenza sarà minore, doppio tampone ai soggetti fragili. Premio della regione a docenti, ricercatori e specializzanti che combattono la epidemia. RSA a Belluno, il record veneto di positivi. Gli ospiti contagiati rappresentano il 6,8% del totale in provincia di Belluno, il dato peggiore in regione. I dipendenti con il virus sono 47. Questo sempre per quanto riguarda i dati delle RSA nella ULS 1 Dolomiti. Ricordiamo che se in provincia di Belluno gli anziani delle RSA contagiati sono il 6,8% del totale, a livello regionale gli anziani contagiati delle RSA rappresentano il 3%. In questa pagina viene ospitata anche poi la testimonianza di Don Ivano Brambilla, parroco di Cortina d'Ampezzo reduce dal contagio che sottolinea l'isolamento è duro. Confindustria e sindacati dopo il Covid la crescita documento comune tra l'Associazione regionale degli imprenditori e CGL e Cisley Will programmare le risorse per progettare una nuova stagione di sviluppo. Questa è la richiesta che viene fatta e sempre in tema di coronavirus segnaliamo anche un intervento del Vescovo di Belluno Feltre Renato Marangoni che invita le comunità ad essere solidali con chi perde il lavoro. Il Vescovo chiede unità la dioce di stanza a 63.000 euro per aiutare chi è rimasto disoccupato. Sulla seconda ondata ci siamo illusi troppo presto vigilate il male è sempre in agguato. Queste alcune sottolineature proposte dal Corriere delle Alpi relativamente all'intervista realizzata al Vescovo Marangoni il quale tra l'altro dice non abbandoniamo i soggetti più fragili non c'è chiesa senza questa dinamica. Andiamo ancora avanti sempre sulle pagine del Corriere delle Alpi che dopo aver fatto un po' il punto sulle elezioni americane sottolineando che Biden assapora la vittoria affronta alcuni altri temi di carattere religiunale per esempio il fatto che il Veneto ha perso 38.000 posti di lavoro dall'inizio della pandemia in questi diciamo in questi primi dieci mesi del 2020 per arrivare a un titolo che riguarda Del Vecchio il fondatore e presidente di Luxottica Del Vecchio scrive il Corriere delle Alpi blinda la dinastia in Delphine in Exilus Milleri pronto al vertice spiega ancora il giornale quote della cassaforte di famiglia del vecchio equamente divisi fra i sei figli e la moglie ma per decidere dovrà essere garantita l'intesa tra l'88,5% dei titolari del fondo ed eccoci alle pagine dedicate alla provincia di Belluno il centro storico perde un altro negozio Vision Ottica lascia via Caffi per trasferirsi a Baldenic il negozio è aperto di fronte al Super V Franco Lotto via Vittorio Veneto è attrattiva da un punto di vista commerciale il titolare in momenti come questo bisogna avere il coraggio di reagire e di investire Dolomiti Garden cresce pronte in primavera nuove serre tecnologiche e c'è qui anche la foto dei lavori che si stanno realizzando in cima alla salita del Boscon sulla strada che collega Belluno a Sedico andiamo ancora avanti la riforma del soccorso alpino è legge riconosciuti ruoli e valore del corpo la norma precisa l'attività del soccorso alpino istituzionalizza nuove figure tecniche e rafforza il rapporto con il sistema di emergenza il ministro d'Inca protagonista ieri di una conferenza stampa sul tema insieme agli responsabili del soccorso alpino grande passo avanti per lavorare ancora meglio nei territori operai in prestito così la garda era entrata nel giro dei sub appalti si sta parlando in questo caso dei cantieri per i mondiali di sci di Cortina d'Ampezzo sottoposta interdittiva antimafia lavorava a termine ci sono altre cinque aziende nel mirino degli inquirenti è il tema del pericolo che nelle opere che si vanno realizzando per i mondiali di sci del 2021 per le olimpiadi del 2026 si possa essere qualche infiltrazione mafiosa o qualche pratica illegale da parte di chi è coinvolto nella realizzazione dei lavori basta aggressioni va chiusa la sezione di salute mentale il titolo in questo caso si riferisce alla situazione del carcere di Belluno a Baldenich un detenuto ha dato in escandescenze spaccando sedie e tavoli i sindacati poco personale e la struttura non è idonea a gestire queste utenze comuni di confine nel 2020 già erogati 63 milioni di euro e c'è una foto dell'onorevole De Menich a correddo di questo articolo onorevole De Menich che presiede il comitato di gestione dei fondi di confine andiamo ancora avanti sempre sulle pagine del Corriere delle Alpi investono un ragazzo in motorino lei fugge a piedi lui si schianta i carabinieri di Cencennighe hanno denunciato la coppia per omissione di soccorso l'uomo ha finito la sua corsa in auto contro un palo della luce e ha soffiato 2 e 2 nell'etilometro quindi molto oltre il limite consentito si tratta questa di una corrispondenza che viene da la valle a Gordina bussola della solidarietà raccolti 6.400 euro perché in difficoltà il resoconto dell'iniziativa del comune di Belluno andiamo ancora avanti eccoci sulla pagina di Feltre le vetrine delle attività sbarcano su un portale web comune e Ascom al lavoro per dare uno strumento gratuito agli operatori l'assessore Irma Visalli un servizio per tutto il settore produttivo della città dobbiamo creare una crescita culturale tra i commercianti questa una delle sottolineature dell'Ascom della Confcommercio relativamente alla necessità di usare di più il digitale parco della rimembranza di Feltre c'è lo studio da 460.000 euro a due anni di vaia per provvedere alla sua sistemazione medie e biblioteca cantieri per abbattere i costi dell'energia in questo caso la notizia viene da Pedavena e da Alano di Piave parte il bando per assegnare quattro casere al comune ponte nelle Alpi palamares nuova copertura entro Natale si tratta della struttura che era stata devastata da una recente ondata di Malteppo il sindaco Vendramini illustra gli interventi in corso dopo le ultime rifiniture poi la riapertura anche del teatro di Paiane Limana rifiuti stretta sui controlli cittadino multato di 1500 euro frana a terra una parte del tetto della torresella in questo caso siamo a Agordo edificata alla metà dell'Ottocento su input di Antonio De Manzoni è la più a nord delle ville venite ed è stata inserita dal FAI tra i luoghi del cuore e da Roccapietre un altro paraghiaccio è contro il buonsenso il sindaco De Bernardin spara a zero sul collega sindaco di Agordo Chisalè che ha contattato il CONI alla ricerca di un finanziamento ed eccoci a Cortina largo poste un solo piano con più posti auto nel parche la progettazione esecutiva sarà affidata a giorni prevede 80 stalli e non più 75 il sindaco Ghidina salvi gli interessi comunali e di chi ha pagato gli spazi infarto durante il lavoro muore a Cortina Claudio Dincà imprenditore di Mell DJ set all'ombra delle tre cime è tirata ad orecchi al territorio in questo caso si tratta di una corrispondenza da Auronzo la performance online del DJ Vandelli ha avuto oltre 90.000 visualizzazioni ma in pochissime hanno creduto a questa che è stata una grande promozione Amaro il coordinatore dell'evento mediatico sono delle occasioni che bisogna cogliere e dal corriere delle alpi passiamo al gazzettino di Belluno che in prima pagina apre sulla emergenza covid sottolineando in particolare il tema dei ricoveri troppi ricoveri apre anche l'ospedale di Auronzo l'aumento dei pazienti come il virus ha spinto l'Ulsa a trasformare la struttura cadorina in centro covid gli ospedali della provincia dolomitica sono in sofferenza così ieri è scattato il semaforo arancione della regione nel senso che Belluno ha una situazione come abbiamo già visto un poco più grave sui ricoveri rispetto a quella che è la media regionale e la fotonotizia di prima pagina del gazzettino è sempre dedicata al covid ha un suo riflesso particolare il San Giorgio si ferma si tratta della scuola di calcio Union San Giorgio Sedico nel cui ambito sono stati individuati 21 giocatori positivi anzi scusate 19 giocatori positivi su 23 a cui vanno aggiunti due dirigenti per un totale di 21 contagiati nell'ambito della società quindi evidentemente il San Giorgio si ferma ma andiamo all'interno del gazzettino di Belluno semaforo arancione apre Auronzo il titolo si riferisce alla situazione degli ospedali della Ulsh Dolomiti l'impennata dell'indicazione ha fatto precipitare la provincia in quarta fascia causando l'apertura di un altro ospedale di comunità i numeri rimangono invece più confortanti sul fronte delle terapie intensive dove al momento ci sono sette pazienti e poi come bilancio della giornata di ieri nel Bellunese altre tre vittime 201 contagiati sono 33 i ricoverati di età compresa tra i 50 e i 65 anni Focolai nelle residenze per anziani 7 ospiti su 100 sono contagiati nei dati forniti dalla regione emerge che Belluno è la provincia veneta in cui ci sono stati più positivi da inizio pandemia le vittime covid sono 120 attualmente convivono con il virus 145 ospiti persi 3650 posti di lavoro dato peggiore nel Veneto questa è la sintesi che il gazzettino di Belluno propone riguardo alla nostra provincia dei dati che sono stati diffusi da Veneto lavoro e che riguardano i primi dieci mesi del 2020 con tutti gli effetti della pandemia forte sofferenza del mercato occupazionale in netto svantaggio da tutte le altre province scrive il gazzettino relativamente al bellunese il turismo è responsabile per il 39% tra i settori più colpiti c'è anche l'occhialeria parrucchieri saldi ma la crisi morde ci sarà un bel recupero a Natale non dovevamo farci chiudere nemmeno a marzo perché noi abbiamo sempre applicato regole e sicurezza dicono i responsabili del settore tengono bene le ditte individuali mentre molti condipendenti sono ricorsi alla cassa integrazione soccorso alpino via alla riforma con le nuove regole al soccorso alpino rospetta anche il ruolo di direzione durante la fase dei soccorsi sul campo a disposizione dei volontari 750 mila euro per le polizze il ministro d'Inca i volontari potranno lavorare meglio Fabio Bristot Rufus del soccorso alpino è un traguardo ma anche in una nuova partenza si devono tenere saldi i principi iniziali e Gazzettino propone anche un resoconto della attività del soccorso alpino 700 interventi all'anno per i 460 volontari della provincia di Belluno e rimaniamo proprio nella città di Belluno salute mentale reparto del carcere ad alto rischio i sindacati della polizia penitenziaria denunciano le continue difficoltà causate dai comportamenti degli ospiti della struttura il senatore De Carlo situazioni sostenibili che deve essere presto risolta vetrine online svolta nel commercio a Feltre nasce la piazza virtuale del settore non per imitare Amazon ma per offrire nuovi strumenti di crescita culturale digitale per tante attività in crisi sarà possibile mettersi in mostra le informazioni di base inserite in una piattaforma gratuita dal comune di Feltre 10.000 euro alle associazioni la politica dell'amministrazione punta soprattutto alla valorizzazione del patrimonio archeologico e ancora da Feltre rinasce il parco della rimembranza dopo la difastazione provocata da Vaia approvato lo studio di fattibilità per il recupero e la valorizzazione del sito storia cultura aggregazione e pure divertimento nel progetto che inizierà a concretizzarsi grazie alla sezione Feltrina dell'ANA la Mon opere pubbliche oltre 4 milioni da investire nel triennio 2021 2023 volontario proloco strancato da un infarto la notizia viene da Mel si tratta di Claudio D'Inca 52enne di Gus morto ieri a Cortina mentre stava lavorando in un giardino a campo di sopra l'artigiano era molto attivo nell'associazionismo paesano padre di tre figli ricordato da tutti come un grande lavoratore coppia in veste motociclista e scappa presa e denunciata lei era la guida ed è poi fuggita ai piedi lui è balzato al volante ma si è schiantato l'uomo aveva un tasso alcolico di due sono accusati di omissione di soccorso raduno ambientalista per il consiglio da 32 anni ritrovo per dire no ai tentativi di vendite ai privati cortina la piscina accelera progetto ambizioso sindaco e commissario spiegano che stanno per finire i nove anni di chiusure l'appalto entra all'inizio del 2021 abbiamo messo in atto un processo di rigenerazione dell'architettura esistente procedure in tempi record l'incarico della pregettazione esecutiva affidato al raggruppamento comandatario Tecno Project e poi la notizia in cui viene approfondita la comunicazione che nella squadra di calcio dell'Unione San Giorgio Sedico i positivi sono 19 su 23 termina qui questa edizione della Rassegna Stampa a tutti voi il più cordiale a risentirci